I carabinieri della stazione di Giffoni-Vallepiana hanno tratto in arresto a Napoli nel quartiere Marianella il pregiudicato Vincenzo Oliva, 32enne del posto, in esecuzione dell'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari emessa dall'ufficio del GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della locale procura, in quanto gravemente indiziato di estorsione aggravata. La misura restrittiva scaturisce dall'attività investigativa svolta dai carabinieri a seguito della denuncia sporta da un 78enne di Giffoni-Vallepiana che il 23 febbraio di quest'anno venne contattato telefonicamente da un anonimo interlocutore presentatosi come maresciallo dei carabinieri del comando di Battipaia, il quale richiese la somma di 8.500 euro per evitare che il figlio, responsabile di avere investito una donna con l'auto sprovvista di assicurazione, venisse arrestato. L'anziano, intimorito dalla richiesta, consegnò i primi 2.500 euro che costediva a casa alla persona presentatasi personalmente da lui qualche minuto dopo la telefonata, come delegata al ritiro e altri 6.000 euro prelevati da banca e ufficio postale, consegnandoli una volta tornato a casa sempre alla stessa persona. Solo dopo aver incontrato il figlio, l'anziano si accorse di essere stato vittima di estorsione. Espletate le formalità di rito, Vincenzo Oliva è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione di Napoli.